6 buste numerate dall'1 al 6 solo una di queste 6 buste contiene 100 euro questo è un dado, tiene il dado lancia perché avrai 5 possibilità per trovare i 100 euro se li troverai la banconata sarà tua io non farò niente, incrocerò anche le braccia farai tutto a te, vai! 7! che sfortuna riprova sono rimaste solo 2 buste 50% di possibilità lancia il dado, vai! 5! attenzione no, provo ancora beh, prendi la 4 e vediamo e infatti nella busta 4 c'erano le mie 100 euro ciao! 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 No, it's not.